A presto! Non dimenticatevi che lo vediamo dalla prospettiva dei nostri LBX, per questo ci sembra enorme. Ci pensiamo noi, all'attacco! Verranno schiacciati male. L'armata di plati sta continuando a combattere, dobbiamo farlo anche noi. Mi trovo nel laboratorio del livello 4. Molti LBX e i sostituti della Nava Alba sono riusciti a entrare. Che cosa? Mi serve aiuto, dovete proteggere il motore perpetuo. Quindi che facciamo? Il signor Demon ha bisogno di noi, ma non possiamo andarcene o distruggeranno l'intero edificio. Non preoccuparti, ci penso io. Justin! Kaido! Justin! C'è tempo, calma, non ti lanciare giù per le scale. Ti ho già detto che sono qui per aiutarvi, ricordi? Van, voi dovete raggiungere il signor Demon. Andiamo, Van, dobbiamo tenere lontani i sostitutori della Nava Alba dal motore perpetuo. Vai tu con Kazuya, io aiuterò Justin con questo mostro. Va bene, ma fai attenzione. Andiamo, Kazuya! Ok, siete sicuri di farcela? Non ti preoccupare per noi. Quello è il tuo LBX? Sì, è stato ultimato da poco. Il suo nome è Xenon. Uh, non ho letto di questo. Ora abbiamo cose più importanti a cui pensare. Coraggio, Van! Il gruppo si è scelto. E Justin si è ritrovato come ospite. Va bene. Aiuta Justin a fermare i Fortrax. Dobbiamo combattere contro i Deku? Ah. Buono. Ah, sì, tipo, prima lo facciamo contro i Deku. Che d'altro dentro questo? È enorme! Come siamo dovuti farlo? Sì, ho una idea. Ci dovremo raggiungere il cuore. Sì, sei vero? Ma come siamo stai cercando per riuscire in un'altra parte? Voi lo vedete? Oltre là. È la traccia! Sì, non c'è tanto fogo concentrato in questo spot. Può che funziona. La torretta ci sta puntando Non preoccuparti Concentrati sulla sequenza degli attacchi per evitarli Va bene andiamo Ok uno è andato Questo qua Ok questo niente proprio Oh da qui Ah dall'alto arriva no? Beh certo Ok Vai due contro uno ragazzi è facile in questa maniera Ecco qua Perfetto Dai dai tensione Dai tensione Bene Fatto? No Forse si Restiamo con i piedi per terra? Ma Come on Van follow me Ok Justin What are those things? Those are anti LBX turrets This tank has everything Listen Van We have to destroy these anti LBX turrets And deactivate the electromagnetic barrier to move on Looks like we have no choice Let's do it Wow Fanno malino eh Van non preoccuparti troppo se ti colpiscono Continua a difenderti e attaccare una alla volta Ok Bene Abbiamo esattivato la barriera Procediamo Sì se mi avvicinassi però sarebbe meglio eh Andrelink che dici? Non so cosa sta succedendo Si muove da solo Attenzione per favore Grazie eh Meno male Ragazzi stiamo prendendo un sacco di danni Vai Grande Justin Ci stiamo avvicinando sempre di più Sì ma non abbassare la guardia Dobbiamo assicurarci di ristruggire tutte le torrette Bene Ho ricaricato anche lui Dai tensione su Ok Ok è andata Vai la prendola qua Pare che la prendevo Cavolo ragazzi Si scarica con un attimo la tensione Con sta Con sta falce eh Eccola là Abbiamo esattivato la barriera Continua così van Grazie È un po' strana sta parte Molto strana Dagna a non finire E se non ti equipaggi bene Ti fa solo male Siamo arrivati in cima Quello è Quello è Ok Ok Questo è tutto Il termino di controllo Let's see Weapon system Targeting system Here we go Il sistema di scelta Il sistema di scelta Hai Figurato Che a fare Che a fare Wow Ci resta più Di questi ragazzi Sì 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 Però Ok, quell'altro invece Eccolo là Ecco, ok No, non è ok Eh sì, se mi fa muovere Justin, crede che funzionerà? Sì, ho avuto accesso ai controlli Questo intanto cala Tieni occupato di quelle torrette, non ci metterò molto E questo deve andarsene Dai Ok, sta venendo, sta venendo, tranquillo Dai, un altro Purtroppo ragazzi, la farce consuma un sacco di tensione Questo è il problema Oh, ma sei un pezzente, eh Oh Un altro C'è un altro alla vicina a Sinan, purtroppo Ah, mi sa che abbiamo fatto, però Questi si spawnano comunque, ma non serve a nulla È tutto Sì, è tutto C'è un altro Ci sono continui Sì, un po' più lungo, Van Una volta che avrò questo luogo Devo essere poter attivare l'emergia di shutdown Non ti lascio un po' azzurro ZENON BATTLE ON! No, 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 no Oh, abbiamo fatto? Abbiamo fatto, meno male Oh, grande Buono? È finito Eh, meno male That was awesome! You have some serious skills, Justin! Nooo Bene, bene, bene Abbiamo vinto, allora Credo che i sostenitori della nuova alba debbano capire che non siamo semplici bambini Sono incredibili Quei ragazzini sono riusciti a fermare quel carro armato senza l'aiuto di nessuno Signore, l'unità campione è pronta Finalmente Pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato Ora possiamo fermare i piedi per la produzione di energia blaccosismica, giusto? Ottimo lavoro Sì, mi sono davvero grato Damon diventerà la conferenza sulle nuove energie Hai ragione I ragazzi hanno fatto il loro dovere Ora è il mio turno Tyler Quando tornerò potremo parlare Fino ad allora Lascia tutto nelle tue mani Oh Campinelli Justin Non posso credere che siamo riusciti a sconfiggere quella macchina enorme Nemmeno io Non ce l'avrei mai fatta senza di te Ecco il tuo LBX Non potevo riportarmelo da solo Signor Campinelli Oh Questa è l'inizio della linea, Howard Andi il tuo caso Andi il tuo caso Andi il mio caso Andi il mio caso Andi il mio caso Mi sentite? Andi ora! Siete anche di quello che stai facendo? Il dolore del mondo Depende di questo caso Non lo chiederei ancora Aspetta! Oh no! No! La conoscevo già sta scena Ma non me la ricordavo così Me la ricordavo peggio Molto peggio Questa io l'ho vista appunto Come ho detto in un altro video Sul canale di Omega Maxwell Che era un canale che caricava Oltre alle Oltre alle cinematic di roba di level 5 Anche in Azume 11 L'ho conosciuto appunto grazie a Azume 11 Quel canale E ho visto sta scena di LBX Che era appena uscito in Giappone E ora a sapere che veniva da questo gioco Mi è venuto in mente Quando appunto ho visto Tyler Osgood Quando appunto ho visto Damon Osgood Per la prima volta E dico Ma io questo qui Già l'ho visto E ho riconnesso tutto quanto Quello che era successo E questa scena E niente Eccolo là E' morto Perché mi ha salvato da poco Ha cercato di vendicarmi Perché? Dov'è Damon? No Che cosa dobbiamo fare Con il motore perpetuo? Quella è la sua preoccupazione È morto il fratello Che facciamo con il motore perpetuo? E perché non è ancora arrivata l'ambulanza? Sennò che momenti, signore? Damon La nonna è responsabile anche di questo Lo sapevo Sì Van Stai bene? Non direi Damon Osgood Non si è salvato Per lui è finita Per qualche motivo Quello che era appena successo Non mi ferì La realtà mi sembrava Così lontana Wow Ok Non va affatto bene Sai che succederà Ma quando succede E' brutto comunque Ad ogni modo Questo video termina qui Io vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo ovviamente In descrizione i link per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre A prossimo video Bye bye Ciao